Questa è la presentazione del libro Io Solo, scritto da me Manuela Taffi, mi presento, sono l'autrice e appunto qui volevo leggere la sinossi, la descrizione, una breve descrizione, un riassunto di quello che è il libro Io Solo, per provare a entrare a capire l'argomento di cui parlo, che è appunto il diario di Nicolas. Adolescente alle prese con bulli e arroganti, vorresti provare a capire cosa prova e pensa tuo figlio? Il protagonista mette nero su bianco tutti i suoi pensieri, è come leggere direttamente nella mente dei ragazzi, spesso indecifrabile, questo chi è genitore lo sa bene. Troverai sicuramente un po' di tuo figlio nelle parole di Nicolas, mentre tu, giovane adolescente che ti trovi spesso in situazioni in cui non sai cosa fare e come comportarti. Leggi come Nicolas riesce a capire e soprattutto a mettere in pratica gli elementi fondamentali, parlare e reagire. Non solo, imparerà a fidarsi proprio di tutti quelli che prima riteneva non adatti o da evitare. Prova a fare come ha fatto lui, scoprirai dai suoi pensieri proprio quello che forse stai pensando anche tu, in questo momento. Che tu sia un genitore o un adolescente, questo racconto ti appassionerà proprio per la semplicità e scorrevolezza di dialogo. Nei pensieri di Nicolas troverai sicuramente qualcosa che riguarda anche te, tutto d'un fiato, direttamente dalla voce dell'interessato. Questa è appunto la descrizione che si trova nella quarta di copertina del mio libro, appunto nella parte posteriore del libro si può leggere, c'è accanto alla foto, appunto la descrizione.